Perché uomini e donne oggi non va in onda? Ecco il motivo Anticipazioni UED, salta la puntata del Trono Over, ecco il motivo. Salta l'appuntamento odierno e quello dei prossimi giorni di Uomini e Donne. Gli spoiler ufficiali che arrivano dal palinsesto della rete Ammiraglia Mediaset di questo pomeriggio svelano che il dating show di Maria De Filippi non andrà in onda come di consueto. Una notizia che sicuramente non farà piacere ai numerosissimi telespettatori del programma che oggi attendevano con ansia la nuova puntata del Trono Over. Ma per quale motivo Uedì non verrà trasmesso? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutte le news. Uomini e donne in pausa per le feste natalizie. Per quale motivo Uomini e Donne oggi non va in onda? I vertici di Mediaset in accordo con Maria De Filippi e gli autori del dating hanno deciso di prendersi una pausa di 15 giorni in vista delle feste natalizie. . Nello specifico da oggi pomeriggio fino all'epifania il programma Coltrono Classico e Over subirà uno stop. . Ecco perché si è optato per la sospensione della puntata odierna che tuttavia non sarà l'unica. . Gli spoiler ufficiali che arrivano sempre dalla programmazione della rete Ammiraglia Mediaset, svelano che tutta questa settimana e anche quella successiva i telespettatori dovranno fare a meno degli appuntamenti di Uomini e Donne. . Uomini e Donne, ecco quando tornerà in onda il dating show di Canale 5. . 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